Sì, era un'operazione che andava avanti da circa un anno di accertamenti e di indagini e questo era un deposito di calcestruzzo nel comune di Celle di Bulgaria, quindi comunque in area parco, in zona SIC, zona sottoposta a vincoli ambientali ed è stato sequestrato interamente, erano circa 6.000 metri quadri, in quanto i materiali provenienti dall'attività di betonaggio venivano poi stoccati su un nudo terreno senza alcun tipo di attenzioni da parte della ditta per poi essere riutilizzati senza un processo però di lavorazione degli stessi, quindi rilavorati e riutilizzati e poi riutilizzati all'interno della catena per la costruzione. Quindi era un processo tramite il quale in realtà il materiale che poi veniva prodotto dagli scarti di lavorazione poi creava un materiale del tutto privo di quelle che sono le caratteristiche fondamentali del calcestruzzo in sé e quindi per questo motivo era anche comunque dannoso alla salute e in generale per una riutilizzazione futura avrebbe potuto creare comunque delle problematiche nelle costruzioni. Ecco, tanti interventi messi in atto proprio per la tutela del nostro patrimonio ambientale, in questo caso anche per la nostra salute. Sì, assolutamente. Tutto quello che viene poi lavorato, poi viene utilizzato per la costruzione delle nostre case, di impianti, quindi comunque sono a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza della collettività. Allora, ci apprestiamo a vivere questo Natale, giorni in cui naturalmente si intensificano da parte vostra anche i controlli. Sì, si intensificano i controlli in ambito ambientale, in realtà non ci siamo mai fermati e da quest'estate che abbiamo fatto diverse operazioni, ottenendo anche degli ottimi risultati anche grazie alla procura di Vallo della Lucania, quindi siamo molto soddisfatti e non ci fermeremo sicuramente. Durante questo periodo però si intensificano soprattutto i controlli in ambito pesca, abbiamo un'operazione complessa in corso e quindi sicuramente diamo spazio anche a quest'altra nostra attività di istituto che è assolutamente importantissima per il territorio e sempre per la salute di noi consumatori. Proprio per i consumatori quali sono i suoi suggerimenti? Ecco, stare attenti naturalmente al momento in cui si vadano ad acquistare i prodotti. Assolutamente, acquistare i prodotti nelle pescherie o comunque dagli ambulanti autorizzati, non evitare il porta a porta per mantenere quella che è la catena alimentare, l'integrità della catena alimentare e poi ovviamente stare sempre attenti alla tracciabilità e che tutti i prodotti ittici abbiano la giusta etichettatura per sapere ovviamente il prodotto ittico da dove proviene e per avere una certa tutela e tranquillità sulle nostre tavole. Sei mesi di presenza nel Cilento? Sei mesi per ora, sì, sì. Un bilancio? È un bilancio sicuramente positivo, sono molto contenta delle attività che abbiamo svolto e però insomma è sempre un crescendo, quindi non ci fermeremo e abbiamo comunque un ottimo anche insomma l'opinione pubblica e dalla nostra parte, comunque noi tuteliamo i consumatori, tuteliamo le persone che abitano nel nostro Cilento, l'ambiente, quindi è sicuramente un messaggio anche positivo per quello che può essere un nuovo anno ricco di tante altre attività. Speriamo, diciamo, che sia un'attività poi... noi in realtà non spereremo mai di sanzionare, non è quello il nostro obiettivo, però purtroppo se c'è la necessità lo dobbiamo fare, è un nostro dovere. Questo è un modo per augurare ai nostri telespettatori, quindi all'Accilento, un felice anno nuovo, un buon augurio per queste festività. Sì, assolutamente, un augurio a tutti e ci vedremo il prossimo anno. Buon lavoro, grazie. Grazie mille. Grazie mille.